Anche lo stadio Arechi di Salerno finisce nel mirino dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. Un blitz straordinario nel corso dell'incontro di Serie A salernitana Sampdoria ha visto in campo il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno che, supportati da altri militari del Comando Provinciale, hanno proceduto al controllo dei diversi punti ristoro e bar nei vari settori dell'impianto sportivo. Diverse le mancanze ed irregolarità riscontrate che hanno comportato l'elevazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 150 mila euro e la contestuale disposizione della sospensione dell'attività imprenditoriale. Tra le mancanze più rilevanti riscontrate dai carabinieri vi è certamente quella dell'impiego di decine di dipendenti a nero, quasi tutti i lavoratori identificati nel corso del servizio, impiegati con diverse mansioni e risultati privi di regolare contratto. Sono state riscontrate evidenti e gravi carenze di carattere igienico-sanitario e strutturali che sono state segnalate all'Asl di Salerno per le determinazioni di competenza. Nei locali utilizzati per preparare i pasti da somministrare agli utenti dello stadio Arechi di Salerno, oltre ad alimenti scaduti, c'era anche un cane. Si è trattato di una normale operazione di controllo, ha dichiarato il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti. Allo stato attuale sono ancora in corso verifiche, finalizzate anche ad appurare quanti lavoratori in nero fossero anche percettori di reddito di cittadinanza per procedere alla revoca del beneficio e al recupero di quanto illegittimamente già percepito. La ditta appaltatrice assegnata dal Comune di Salerno non rientra nell'elenco delle cooperative sociali coinvolte nell'inchiesta in corso. Diciamo che la finalità del controllo non era rivolta esclusivamente allo stadio, ma è un'attività che stiamo svolgendo sull'intero territorio provinciale, intesa con alcuni reparti speciali. In particolare con il nucleo ispettorato del lavoro e il nucleo antisoficazioni sanitarie abbiamo svolto un controllo a diversi punti di storo presenti all'interno della struttura, come abbiamo fatto con altri esercizi pubblici, e abbiamo rilevato una serie di irregolarità abbastanza gravi. La prima delle quali è il lavoro nero, perché abbiamo scoperto circa 40 persone presenti all'interno degli esercizi su 41 non in regola, e quindi ci sarà una dura sanzione amministrativa nei confronti dei titolari. Poi c'erano anche delle fortissime e diffuse carenze igienico-sanitarie che abbiamo riscontrato, ed in uno dei punti di storo abbiamo anche rilevato la presenza di un animale, di un cane, cosa assolutamente incompatibile con le norme igienico-sanitarie. Quindi il nostro intervento è principalmente diretto a tutelare gli interessi diffusi, prima fra tutti la salute e soprattutto anche la regolarità contributiva dei lavoratori. Voglio soggiungere che stiamo anche facendo le verifiche per valutare e verificare se tra gli irregolari ci siano persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Oggi c'è stato questo occhio rivolto allo stadio, domani potrebbe essere qualche altro esercizio pubblico, perché sono interessi particolarmente diffusi e soprattutto in questo periodo, che tutti quanti conosciamo essere particolarmente delicato, che vanno tutelati coloro che sono in regola. Solo una curiosità comandante, l'indagine è partita volontariamente o c'era stata qualche segnalazione, qualche denuncia? No, ripeto, rientrare nell'ambito di una serie di controlli che stiamo facendo, sulla città e sulla provincia, sapete che su Salerno ci sono anche dei riparti speciali, quindi il nucleo per le sofisticazioni sanitarie e il nucleo ispettorale del lavoro con cui facciamo diversi controlli e esercizi pubblici e abbiamo concentrato l'attenzione su quelli che erano presenti all'interno dello stadio.